I sindacati è l'assalto di Tua. Il trasporto unico abruzzese intende chiudere la sede di Chieti per trasferirla a Pescara. In primis perché nel tetto c'è l'amianto e quindi il luogo di lavoro potrebbe essere pericoloso per la salute dei dipendenti. Per noi la sicurezza del posto di lavoro è indispensabile. I lavoratori devono essere sicuri al 100%. Quindi se c'è questo problema va affrontato e se c'è va risolto. Però il problema è di spostare tutta una sede così repentinamente senza nemmeno interlocuzione né sindacale né forse neanche politica. E questo è un problema perché questa sede è una sede importante dove ha sempre funzionato. Ci sono dei dipendenti, ci sono dei lavoratori, ci sono delle residenze qui vicine da Guardia Grele e tante altre residenze che insomma neanche le possiamo postare tutte a Pescara. Non credo che possa essere un vantaggio. I rappresentanti dei lavoratori chiedono che l'amministrazione di Chieti e Tua si siedano a un tavolo per identificare una sede alternativa che comunque sia nel comune teatino. Riteniamo che ci avessero dovuto avvisare, indicarci un luogo alternativo e dopodiché spostare, fare tutta questa operazione di chiusura delle aree di parcheggio, di disagi per spostare i pullman da una sede all'altra. Il rischio è che venga sottratta alla città tutti i posti di lavoro che ad oggi sono in essere. Con la scusa del deposito si rischia che la sede di Pescara attiri a sé tutta l'attività che oggi si svolge sulla sede di Chieti. Altra questione invece è quella della soppressione della tratta Giulianova-Roma che, denunciano i sindacati, ci fa perdere 125.000 euro ogni mese. Addirittura si vogliono tagliare fino a 1.300.000 km di trasporto pubblico. Qui c'è un vero problema perché noi siamo d'accordo alle subcongestioni, non alle subcongestioni e non ai tagli di 2 milioni di chilometri. Ma perché? Se noi dovessimo andare a finanziare tratte che probabilmente non sono nemmeno remunerative, non siamo d'accordo. Se la regione Abruzzo ha deciso di mettere altri chilometri di TPL, ci deve mettere i soldi, ci deve mettere i soldi. Non possiamo fare 2 milioni di chilometri a rischio di impresa. Dopodiché andremo a tagliare circa 2 milioni di chilometri di TPL in tutto l'Abruzzo. E io non so se i sindaci sono d'accordo. Noi siamo d'accordo a tagliare le sovrapposizioni, non ci tiriamo indietro. Ma le sovrapposizioni quelle vere, non tagliare per lasciare, diciamo, delle corse inutili. Non siamo d'accordo con questo. Matua si difende, non è competenza nostra, ha dichiarato il Presidente Giuliante, la responsabilità è della regione. Non siamo noi coloro i quali si occupano sostanzialmente del ridisegno della rete regionale. Noi prendiamo atto che è necessario un ridisegno in funzione delle spese maggiori che dobbiamo sostenere. Poi il compito di questo ridisegno è della regione Abruzzo, che ha specificamente queste competenze. A noi successivamente competerà attuare quelle che sono le indicazioni che ci vengono date. Come se non bastasse, i sindacati attaccano Tua, che a fronte di un parco macchine in condizioni pietose intenderebbe ridurre al minimo l'attività manutentiva aprendo alle società private.